Trieste è stato il 2020, cosa dobbiamo aspettarci da questa manifestazione così particolare? Qualcosa di diverso dal tranno, dal tranno i siti erano il Castello di San Giusto e Piazza Verdi, questi assemblementi non si possono ripetere perché la presenza massiccia di persone è bloccata a quelle che sono le regole del coronavirus, faremo delle manifestazioni o con una presenza modesta di pubblico o in assenza di pubblico, le andremo a riprendere, a registrare e poi a mandare in onda attraverso scrimi, social e gli emittenti locali assieme a quelli che saranno degli spot pubblicitari per evidenziare le bellezze e le qualità del territorio, quindi faremo un marketing non solo culturale ma anche e soprattutto turistico.